Sono oramai dieci anni da quando il terribile sisma del 6 aprile 2009 ha cambiato inesorabilmente la vita di tanti abruzzesi. In provincia di Teramo sono otti comuni che rientrarono nel cratere del sisma aquilano. Arsita, Castelli, Fanadriano, Penna, Sant'Andrea, Pietracamela, Tossicie, Montore Alvomano, il comune più popoloso della montagna teramana. Sono trascorsi dieci anni, dieci anni che hanno visto scemare man mano l'economia negli otto comuni del cratere 2009. Montorio in una prima fase ha subito per Faiano e rientrato per la frazione di Faiano nel sisma 2009. Diciamo che i piani di ricostruzione per gli otto comuni sono stati approvati circa intorno al 2015-2016. Che cosa è successo dopo? Che l'UTR nostro cominciava a lavorare dietro alcune progettazioni degli aggregati perché dopo le case singole all'esterno stanno a buon punto. Il problema è per il centro, per Faiano e per le case all'interno del centro storico che hanno avuto problemi. Quelle purtroppo sono ferme sia a Montorio, sono pochi gli aggregati che stanno iniziando il lavoro. Come dicevo, che cosa è successo dopo? 2015-2016 si sono approvati i piani di ricostruzione, arriva il sisma 2016, si riblocca tutto. Ad oggi quanti sono gli sfollati del 2009? Il 2009 ce ne sono in cassa ancora 9, sono ancora in cassa 9 e gli sfollati che ancora non riescono a rientrare a casa è tutta la zona di Faiano e parte del centro storico. In assoluto la zona più colpita del comune di Montorio è stata la frazione di Faiano, dove l'unica cosa che in dieci anni è cambiata è stata quella della demolizione delle diverse case di categoria R resi inagibili dal sisma. Intervento effettuato solamente pochi mesi fa. Un paese che potremmo definire fantasma, visto che ad oggi sono solamente sei le famiglie che sono rimaste a vivere lì, grazie a MAP, moduli abitativi provvisori, costruiti dopo il sisma 2009, che purtroppo, visto i dieci anni passati, tanto provvisori non lo sono. E' uguale a quando successe il terremoto, non cambia niente, stiamo su 50 metri quadri in quattro persone, io come le amiche mie non sono venuti a controllare i MAP, niente, noi stiamo in condizioni precarie. L'unica cosa che è cambiato sono le macerie che adesso... Le macerie che ci stanno, non abbiamo più niente, prima almeno pure la vedevi, anche se non ci potevamo entrare, ma ci stanno solo le macerie, non c'è rimasto niente, niente, niente e nessuno si preoccupa. Siamo nel 2019, quanto è difficile adesso vivere a Faiano? E' difficilissimo, diciamo che non viviamo più, nel senso che prima Faiano era un paese vivo, dove d'estate soprattutto venivano persone da Roma, che avevamo il problema di parcheggiare le macchine, perché non c'era nemmeno il parcheggio per le macchine, per quanta gente c'era. Le feste che abbiamo fatto a Faiano sono feste che ancora adesso si ricordano, come quella degli alpini che abbiamo fatto qui, che avevamo anche la lapide, sono feste che non si dimenticano, adesso è un paese morto. I giovani non ci sono più? I giovani non ci sono più, i figli nostri vanno via, perché qui non c'è più niente da fare, i ricordi non ci sono più perché le case sono state messe giù, quindi niente, siamo solo noi e basta. Finito noi, finito Faiano.